Chiediamo alle prefetture e alle organizzazioni produttive e sociali di rendere obbligatori in tutto il territorio regionale e per tutta la filiera forestale protocolli di legalità per rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali nel settore della gestione boschiva finalizzata alla produzione di energia da biomassa per verificare e rendere trasparente e legale tutta la filiera del bosco all'impianto a biomassa e quanto chiedere l'ambiente Calabria in una nota in merito agli incendi che stanno distruggendo in questa torida estate il patrimonio boschivo della nostra regione. Ritardi, approssimazione e inefficienze della regione nella definizione degli uomini e dei mezzi da mettere a disposizione per le attività di antincendio boschivo hanno determinato questa emergenza. Accordi che iniziano per legge il 15 giugno e invece, prosegue sempre la nota di legambiente Calabria, solo il 3 luglio è stata sottoscritta la convenzione operativa tra la regione e i vigili del fuoco e sempre il 3 luglio è stata approvata la progettazione per l'antincendio boschivo gestita da Calabria Verde che prevede una spesa complessiva per la regione di quasi 14 milioni di euro, di cui 1 milione e 9 per il noleggio e l'utilizzo di quattro alicotteri privati e 1 milione e 2 per la convenzione con i vigili del fuoco, mentre gli altri 10 milioni restanti servono per coprire le spese per le attrezzature e i costi di 874 operatori di Calabria Verde impegnati in azioni di avvistamento, spegnimento e utilizzo dei mezzi e autobotti per l'AIB. E invece per quanto riguarda le proprietà forestali pubbliche della regione dei comuni, sempre secondo l'associazione ambientalista, bisogna passare urgentemente alla gestione forestale sostenibile, certificare le foreste e creare filiere locali per il legno e prodotti boschivi non legnosi e indirizzare le risorse pubbliche per ingentivare processi virtuosi nella cura e nella gestione del territorio del bosco. Insomma, un meccanismo virtuoso che deve partire dai soggetti pubblici anche per mettere a valore i loro beni, ma che deve coinvolgere i privati che detengono la gran parte del patrimonio forestale regionale e sono l'anello debole di un sistema troppo permeabile alla criminalità perché ancora troppo illegale.